Maxi sei più brava te, Mara! E basta, se c'è la Melecchi che c'è famolotta, famo capi brava so io e basta! Guarda, io sono Maxi, è lui il mio socio, io sono quello vero, va bene? Ma che ridi? Oh, lo imiti benissimo, è vero o no? Lo imiti benissimo, Max Giusti, ma te sei pronto per tale quale? Carlo Pialo! Allora, la nostra intelligenza artificiale ha creato copie di personaggi famosi che ormai da soli girano, vagano per la Rai credendo di essere veri. Oh, una copia, soggio di che? Ah bello, io ti caccio da Rai? Ma no, no! No, ma no, lascia me stai, io ti rimando a fare pacchi, eh! Ma quelli che portano i corrieri! Vabbè, ovviamente! Vabbè, non lo scherzato, lei! Andate, no, per favore, per favore! Vieni, 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 ti presento scherzato! I miei ospiti del mio programma! Bravo! Bravo! Fermo un po', fermo un po', scusate, eh! Ciao bella, Kim Kardashian! Aspetta, ma te sei il Fiodorobi Facchinetti? Sì, sono figlio, sì, sì, sì! Francesco! Amore mio! Oh mio mio! È penosa questa roba! Sì, sì che mi puoi chiamare zia! Sì! Ma c'è, ma lo sai che ho? C'è! Ma c'è! È ancora questa roba! Io con questo ho avuto, non con lui, però da giovane, con Red Canziana una storiella! Ah! Vabbè sì, perché Amara ha dichiarato proprio pochi giorni fa che ha confessato che ha avuto un'avventura, una storiella con Red Canziana! Lo so, zia deve sempre parlare, se ha pure tutti rifatti via! Si deve aggiornare! Che poi a dirla tutta, tu padre ci ha provato pure con lei! E cosa è successo? E niente amore, perché quello canta che te sfonde finita! Io me lo so immaginato di notte, ma... No, no, no! Non si può! Non si può! Non si può! Allora andate ad aggiornarvi, andate pure ad aggiornarvi, grazie! Allora andate! Allora andate! Allora andate! Allora andate!